Quest'anno per celebrare la donna insieme alla Commissione Pari Opportunità abbiamo voluto agganciarci al mondo dell'arte e quindi portare la nostra provincia su un palcoscenico nazionale. È importante sottolineare la sinergia che abbiamo voluto esaurare sul territorio con le istituzioni, ordini professionali e associazioni femminili. Voglio ricordare anche l'ultima iniziativa che abbiamo promosso insieme alla Nao Assomed, un importante sindacato di medici, creando così una sorta di rete che ci permette di dialogare con un unico linguaggio che è quello dell'universo femminile. Vorremmo estendere il nostro invito anche agli altri ordini professionali e solleciteremo anzi quegli ordini che a loro interno ancora non hanno una Commissione Pari Opportunità, proprio perché vogliamo che la parità di genere sia promossa in tutte le professioni, in tutti gli ambiti professionali. La Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo, quest'anno l'8 marzo, giornata internazionale della donna, giornata in cui si festeggiano le conquiste sociali, civili, politiche delle donne, ha inteso organizzare due iniziative che hanno un comune denominatore, l'arte, la bellezza e la cultura. Inizieremo giovedì 7 marzo nei saloni di Palazzo Melatino, sede della Fondazione Tercas, dove avremo in mostra un meraviglioso quadro del Seicento che ci racconterà la storia di Giuditta che tagliò la testa ad Oloferne per salvare il suo popolo. Ci interrogheremo se Giuditta sia stata un'eroina o un'assassina senza scrupoli. L'8 marzo invece qui in provincia, nella Sala Consigliare, avremo un convegno di respiro nazionale sull'architettura. L'architettura declinata al femminile ricordando una signora dell'architettura, Elin Gray, irlandese, che ha fatto la storia dell'architettura, una progettista audace. Un evento realizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti di Teramo e abbiamo pensato che fosse opportuno fare un focus sull'architettura, in questo momento in cui il nostro territorio provinciale va ripensato, ricostruito a livello urbanistico. Noi in provincia di Teramo abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle donne architetto bravissime, raffinate, che potranno e possono dire la loro sulla nostra futura ricostruzione.